Nel 1976, quando Gigi smide di giocare a calcio, fu come un lutto per tutta la Sardegna. Dopo il suo ritiro, ecco, anche le fortune del Cagliari piano piano sono andate sempre a diminuire, perché chiaramente è mancato il protagonista principale, la fonte di ispirazione per molti. È triste parlarne, ma in qualche modo io sono comunque convinto che il suo esempio ha dato ispirazione a molti giovani come me e che poi hanno cercato di fare calcio in maniera seria. Poi io sono uno di quelle persone che probabilmente ne ha tratto grande beneficio da tutto quello che lui ha fatto e dal come lo ha fatto. Al di là di quello che lui era capace di fare in campo, ecco, era anche il suo modo di comportarsi, il suo modo di essere, che è stato esemplare per molti giovani, come sicuramente lo è stato per me. Le mie origini, il mio passato in più di un'occasione sono state la ragione del mio successo, perché ho dovuto lavorare duramente per ogni cosa e per ottenere quello che ho ottenuto e quelle origini sono state importantissime. Grazie.